Una cosa è colpire i casi che sono oggettivamente intollerabili, cioè gente che gira col Ferrari e si dichiara nulla tenente. Altra cosa è correre il rischio di infilare nell'ordinamento un'altra norma che vessa il cittadino comune, sulla quale io sono contraria. Quindi, poi c'è anche chi nella maggioranza dice che bisogna proprio togliere l'accertamento sintetico. Io posso temere che togliendo l'accertamento sintetico sia difficile, diciamo così, andare a vedere quello col Ferrari. Anche con parte dei casi che sono oggettivamente eclatanti, oggettivamente intollerabili. Però, secondo me ci vuole un attimo più di tempo per guardare nel merito la questione e per ragionare della norma migliore che sia, da una parte, chiaramente a garanzia di una lotta all'evasione fiscale fatta sulla grande evasione, fatta sui casi che sono intollerabili, efficace e dall'altra, diciamo, garantire il contribuente rispetto a una senza normativa che esiste oggi. Dopodiché, che tipo di fisco immagino? Beh, quello che stiamo costruendo, direi. Nel senso che noi abbiamo intanto avviato una riforma fiscale che era attesa da 50 anni e stiamo procedendo sempre per il lavoro del Vice Ministro Leo, prevalentemente che voglio ringraziare perché sta lavorando tanto e sta lavorando molto bene, e stiamo procedendo con i decreti attuativi di quella delega fiscale per disegnare un rapporto diverso tra il fisco e il contribuente. Che cosa significa? Secondo me un fisco giusto è intanto un fisco che non ti vessa con delle regole assurde, con un livello di tassazione altissimo e che non corrisponde al livello dei servizi che vengono erogati con i proventi di quella tassazione. Secondo me un fisco giusto, un fisco che ti chiede di pagare, scusate la ripetizione, il giusto e di farlo in tempi ragionevoli. Grazie.